Ci servono dati per identificare il bersaglio. Abbiamo marcato delle possibili fonti. Marcatura probabili obiettivi in corso. Violazione sistema in corso. Dati ricevuti. Analisi in corso. Ok, bersaglio identificato. Avete più tempo per completare la missione. Bersaglio individuato. Piazzateci una carica. Bersaglio una carica. La nostra carica è pronta. Sono nostri. Nemico fuori gioco. Bersaglio. 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 Bersaglio.